Ciao a tutti. Due pillole per dirvi perché visitare la Basilica di Santa Pudenziana. Innanzitutto perché è una delle più antiche di Roma, costruita sulla chiesa domestica, nata grazie alla donazione degli eredi del senatore Pudente. Figura molto legata agli apostoli, tant'è che se ne parla nella seconda lettera di San Paolo a Timoteo. Ha avuto due figlie, morte e martiri, Pudenziana e Prassede e invito ad andare a vedere anche la Basilica di Santa Prassede che è nei pressi che è straordinaria. Bene, dicevo, perché visitarla? Beh, per i mosaici, mosaici straordinari, mosaici absidali più antichi di Roma solo secondi a quelli di Santa Costanza. Veramente straordinari. Cristo pantocratore, tetramorfo, le quattro figure poi identificate con gli apostoli, ma sono le quattro figure che sono richiamate nell'Apocalisse. Curioso perché il committente del mosaico, il pontefice Innocenzo I, è quello che ha inserito il libro dell'Apocalisse tra i libri canonici. Quindi dicevamo, Cristo pantocrator, ci sono dieci figure di apostoli, due sono state distrutte durante i lavori di restauro e di fatto rifacimento della Basilica in epoca barocca, infatti adesso la connotazione della Basilica in stile barocco, dieci apostoli e due donne che offrono Ghirlande. Secondo la tradizione popolare si tratta delle due sorelle, appunto, Pudenziana e Prassede. Secondo una interpretazione teologica invece si potrebbe trattare della Chiesa degli Ebrei e della Chiesa dei Pagani che offrono corone, come si usava nell'antichità romana, ai generali vincitori, quindi a Cristo la nuova e vera Chiesa che appunto è vincitore rispetto alle Chiese antiche. Da notare gli apostoli vestiti come senatori romani, da notare la croce gemmata che ricorda da una parte la croce ovviamente sul Calvario, che altro? La tomba del Cardinale Bonaparte, parente e discendente di Napoleone, è stato cardinale titolare di Santa Prassede e qui è sepolto e ricordato. Per l'altro è una persona molto mite, assolutamente distante dai più famosi parenti. Beh, ecco, appunto molto velocemente questi i motivi per cui vale davvero la pena fare un salto a Santa Pudenziana, perché è una Chiesa straordinaria, veramente straordinaria, mosaici commoventi per quanto sono belli. Un saluto a tutti!